Archiviata con successo a Bicelli è la prima edizione del premio internazionale Sergio Nigri dedicato alla cultura, all'arte e allo spettacolo. L'evento, promosso dall'associazione Archeoclub, ha premiato 10 personalità di sintesi nei diversi ambiti del sapere. Sono state 10 le personalità premiate nella prima edizione del premio internazionale Sergio Nigri dedicato al mondo della cultura, dell'arte e dello spettacolo. La cerimonia di premiazione è avvenuta al Nicotel di Bicelli, dove il sindaco Francesco Spina e il presidente dell'Archeoclub Luigi Palmiotti hanno conferito il riconoscimento a Don Mimmo Marrone per il prestigioso impegno nel campo ecclesiale. Per l'ambito militare è stato invece premiato Pasquale Preziosa, generale di squadra aerea per il servizio militare prestato in diversi paesi del mondo. Per l'ambito giornalistico il premio è stato assegnato al giornalista Paolo Iorio, direttore del Museo Tesoro di San Gennaro di Napoli, per l'impegno nella tutela e valorizzazione del patrimonio artistico ed ecclesiastico italiano. Per l'imprenditorialità nel campo turistico e ricettivo l'Archeoclub di Bicelli ha premiato la dottoressa Rachele Barra, direttrice del complesso alberghiero Nicotel, che ha ospitato anche l'iniziativa. Nel campo musicale encomi al maestro Giovanni Cassanelli, all'arpista Maria Graziannesi, al flautista Luigi Facchini e per la canzone premiata Gabriella Arruanno, giovanissimo talento della voce. Per la pace e la cooperazione fra i popoli di diverse etnie un premio a Salvatore Maenza, produttore di programmi radio televisivi, tra i quali si ricorda il concerto per la vita e per la pace da Betlemme e Gerusalemme della RAI in Mondovisione. E' infine premiato Vincenzo Monopoli per il suo impegno nel campo dell'immigrazione e del mondo del lavoro. Un evento che viene archiviato con successo e che ha posto già le basi per la preparazione della seconda edizione del premio internazionale, sul quale tutto lo staff dell'Archeoclub, incoraggiato dall'amministrazione, è già a lavoro da ieri.